Siamo, ci arriviamo verso la fine della chiacchierata della nostra puntata e ho una curiosità, se lei potesse rinascere in quale epoca preferirebbe incarnarsi per vivere la sessualità diciamo che preferisce? Bene domanda, al di là del fatto che io sinceramente sono abbastanza contento della mia vita presente e di quella che è stata la mia esperienza da un punto di vista intimo, relazionale, però se dovessi fare una scelta che è stimolante questa domanda, credo nelle belle epoche, cioè alla fine dell'ottocento, primi del novecento in cui cominciavano… Cosa l'attira di quel periodo? Il fatto che c'era questa industrializzazione, questo entusiasmo a livello di popolo perché negli anni dal novecento al novecento e trenta ancora non si respirava odore di guerra, quindi c'era la nascita del burlesque, il can can, queste feste, queste paillettes, questa voglia di vivere, di uscire la sera, lo slow train che faceva… e soprattutto a Parigi mi piacerebbe nascere, a Parigi in quell'epoca… Perché stava descrivendo appunto un contesto che richiamava molto la Francia e Parigi… Si figurava in testa la situazione oltre che all'epoca proprio perché anche quando sono nato a Parigi ho rivissuto in maniera ovviamente molto laterale queste cose qui e sentivo una certa attrazione verso quel periodo, diciamo, di voglia di vivere. Lei che è un apprezzatissimo consulente della sessualità di coppia, se dovessimo definire un concetto, qual è la sua mission, possiamo dirla in una motto, in un hashtag? Quello che io… sì sì, esatto, hashtag che oggi va bene come parola, sarebbe motto e io credo proprio che sia tenere innamorati gli innamorati, perché la cosa forse più semplice ma anche più difficile in questo momento, troppe distrazioni, troppe stimolazioni, appunto questa società ipersessualizzata, la difficoltà è far capire agli innamorati che possono re-innamorarsi e trovare motivi nuovi per stare con la stessa persona, quindi tenere innamorati gli innamorati e tenere innamorato proprio come punto di riferimento per la propria crescita, in modo che quando si va a fare l'amore si possa dentro di sé dire, oh mi piace essere in questo posto con questa persona, in questo momento a fare queste cose e da nessun'altra parte con nessun'altra persona a fare nessun'altra cosa, cioè vivere un qui ed ora appagato. Totalmente presente e come dicono in oriente i grandi maestri del pensiero, quindi essere in un risvegliato, perché quando sei completamente calato nel momento presente sei risvegliato. Tutto il resto è relativo. Tutto il resto è relativo, probabilmente non entra neanche nella propria percezione. Esatto, quando io parlo di sessualità consapevole, sessualità matura, dove mi piacerebbe che tanti si venissero traghettati da quel 90% di sessualità prestazionale a una sessualità consapevole, questo è il passaggio, io sono il ponte di queste due cose, per far capire le persone che si può, volendo si può fare.